Buongiorno e ben ritrovati oggi è mercoledì 17 giugno 2015 questa è Occhio ai giornali la rassegna stampa di Fano TV che si apre al mattino alle 7.30 in diretta e poi in replica fino alle 13.30 nel corso dei vari appuntamenti nel corso della giornata allora vediamo il santo del giorno subito per cominciare oggi è San Nicandro il sole è sorto alle 5.24 tramonterà alle 20.53 tempo oggi con pioggia nuvole insomma non è una gran giornata dal punto di vista meteorologico è calata anche la temperatura siamo a 17 gradi e mezzo alle 7.30 del mattino vediamo per oggi allora dunque cielo molto nuvoloso con schiarite nel pomeriggio a partire da nord dal settentrione quindi la provincia di Pesero avremo precipitazioni sparse prevalente carattere di rovescio di temporale con appunto questi fenomeni che saranno localmente anche di forte intensità più insistenti sulla fascia costiera le temperature sono in diminuzione per domani invece il tempo migliore il tempo vedete è soleggiato su tutta la regione con temperature lieve aumento venerdì invece di nuovo cielo sereno poco nuvoloso con il per il transito di nuvole medio alte le temperature sono ancora in aumento le condizioni invece di variabilità sono previste per sabato con possibilità di rovesci più probabili nell'entroterra poi miglioramento più duraturo dalla giornata di domenica cominciamo dai giornali allora dal resto del carlino di Fano commissione controllo e garanzia imbavagliata l'opposizione va all'attacco e parla di metodo antidemocratico la maggioranza dicono quelli della dell'opposizione la maggioranza vuole eliminare il principio di un voto a testa viene meno dunque il ruolo della vigilanza poi sotto i giorni dell'asfaltatura occhio alle rimozioni ecco la mappa dei lavori e dei divieti da non infrangere poi la doccia fredda la doccia fredda sul lisippo la confisca infatti finisce nel cestino la corte costituzionale azzera tutto il polghetti museum dunque può stare tranquillo il lisippo da lì non si muove anche la corte costituzionale italiana ci ha messo del suo contro la confisca dell'atleta vittorioso e dunque contro l'ipotetico rapido rientro dell'opera in Italia tutto per colpa di una porta sì avete capito bene una porta perché la seconda udienza tenuta dal giudice di Palma sulla confisca dell'opera venne tenuta al chiuso di una stanza lasciando fuori il pubblico e la stampa malgrado la richiesta contraria ebbene la corte costituzionale a cui sono ricorsi legali del museo californiano per secondo la corte costituzionale quella porta lì doveva restare aperta così come impone la corte europea dei diritti dell'uomo avete capito è morta la contessa marilu montezemolo cugina di luca cordero di montezemolo nobile donna nell'animo il funerale si terrà venerdì alle 17 a santa maria nuova il resto del carlino ecco lo mettiamo a tutta pagina il resto del carlino pubblica anche alcune foto d'epoca all'età di 95 anni dunque si è spenta lunedì pomeriggio la contessa marilu cordero di montezemolo in borgogelli ottaviani con lei se ne va quasi un secolo di storia e con esso un altro pezzo della nobiltà fanese quella operosa e volenterosa sempre attente ai bisogni delle donne ancora dal resto del carlino un altro lutto è morto Muschin l'uomo delle biciclette lo vedete sulla sinistra Giuseppe Priori 89 anni oggi alle 15.30 si terrà il suo funerale nella basilica di San Paterniano è morto così Priori che i veri fanesi conoscono soprattutto per il simpatico soprannome di Muschin piccolo di statura altruista Muschin ha fatto parte di quella schiera di caratteristici personaggi fanesi di una volta grazie alla sua lunghissima attività di meccanico e venditore di biciclette la sua bottega per decenni in via Garibaldi e chi non ricorda Muschin quando si sgonfiava la bicicletta oppure si bucava la bicicletta si andava da lui in via Garibaldi e si faceva sistemare Arrigo Sacchi fa passaggi comincia oggi questa edizione che si annuncia essere una edizione record con 26 presentazioni di libri e 70 ospiti che arriveranno a Fano nei prossimi giorni da oggi nei prossimi giorni anche l'ex ct della nazionale al festival che appunto si apre oggi pomeriggio e durerà fino a domenica 21 giugno noi seguiremo un po' passaggi con qualche diretta qua e là a seconda di quella che è la disponibilità anche del nostro palinsesto quindi vi daremo la possibilità per chi non può di seguirlo magari anche con qualche replica oppure seguirlo anche su internet perché ricordo che Fano TV è anche visibile sul sito internet, sugli smartphone, sui tablet e quant'altro sotto torna a splendere sempre dal resto del carino di oggi torna a splendere la grande tela di Sant'Antonio da Padova chiesa di Santa Maria gremita per il dipinto restaurato ancora da Fossombrone Mussolini non è più nostro cittadino a Fossombrone dopo 91 anni cancellano l'onorificenza data al duce nell'anno secondo dell'era fascista il 25 maggio 1924 il comune di Fossombrone come tanti altri municipi in Italia conferisce la cittadinanza onoraria il cavalier Benito Mussolini per acclamazione si tratta di un ordine che emana dal partito nazionale fascista quindi non è che i singoli consigli comunali possano farci granché il resto è storia come si dice e c'è l'articolo di Adriano Biagioli questa mattina che presenta, racconta un po' come è andata in consiglio e perché insomma è stata cancellata questa onorificenza data a suo tempo al duce mentre da Urbania ci sono i guai soprattutto per gli automobilisti ma soprattutto disagi perché il ponte dei conciatori pericolante è stato chiuso e ci saranno almeno 4 anni di disagi si prevedono pessime prospettive per la mobilità di cittadini, imprese, lavoratori il sindaco Ciccolini e il presidente della provincia Tagliolini hanno parlato con la gente nel corso di un'assemblea pubblica cambia ovviamente adesso tutta la circolazione la circolazione rifatta, i sensi di marcia, scompaiono alcuni parcheggi insomma il centro viene stravolto tutto questo perché guardate il ponte insomma è un ponte di quelli molto transitati e purtroppo a causa di questo problema insomma adesso si bisognerà aspettare che venga risistemato, venga rimesso a posto invece guardate questa fotografia si tratta di un'auto in fiamma all'interno della quale c'era questa ragazzina che è stata salvata perché è estratta è estratta proprio da quest'auto in fiamma e da un signore da un uomo che si chiama Claudio e adesso i genitori di Agnese, questa ragazza che è stata salvata ringraziano, vogliono ringraziare pubblicamente il coraggio di questo Claudio e dice grazie al suo coraggio mia figlia Agnese è salva il padre dice l'ha estratta dall'auto in fiamma il lunedì scorso è finita fuoristrada oggi salterà la maturità perché oggi comincia la maturità sentiamo però il bisogno di ringraziare tutti pubblicamente a parlare è appunto il babbo di Agnese questa ragazza di 19 anni che lunedì notte ha rischiato grosso a seguito di questo brutto incidente stradale lungo la provincia Urbinate nel centro abitato di Bottega di Vallefoglia insomma è stato Claudio Fumicetto un metronotte che l'una di notte era a servizio nella zona e ha estratto questa ragazza dall'auto in fiamma apriamo adesso invece il Corriere Adriatico andiamo velocemente per vedere quali sono le altre notizie sui quotidiani di oggi allora il Ministero da Pesaro ha bocciato lo Statuto dell'Unione dei Comuni i 5 Stelle l'avevamo già evidenziato noi avevamo evidenziato le lacune di questo testo ma il Presidente Pascuzzi dice accoglieremo i suggerimenti ma non si torna indietro mentre è da Bassi le opposizioni devono essere giustamente rappresentate ora il rapporto è 2 a 10 a centropagina la Darsena riconsegnata alla Capitaneria ora è possibile passare ai carotaggi e avviare il dragaggio del porto di Pesaro la soddisfazione del comandante ancora porta a porta e tariffa puntuale sempre da Pesaro Zucchi chiede i risultati degli studi di Marche Multiservizia e l'assunzione di altri dipendenti da Fano invece l'Isippo, la Corte Costituzionale dà ragione al Ghetti Museum il processo andava fatto in udienza pubblica ora la palla passa alla Corte d'Appello di Urbino un colpo di mano per metterci il bavaglio le posizioni contro il blitz di Minardi sulla modifica del regolamento della Commissione di Garanzia il Presidente vuol far passare il voto dei consiglieri in base alla consistenza del loro gruppo Fondazione Cassa di Risparmio di Fano eletto il nuovo Consiglio Generale su 14 componenti 9 sono al debutto ora la nomina del Vice di Tombari Tombari che è naturalmente il Presidente poi ancora nati sotto contraria stella ovvero Romeo e Giulietta in scena gli allievi del Laboratorio Linguaggi ancora dal Corriere Adriatico sparano da San Lorenzo in campo sparano a Vanvera senza colpire i bersagli scuola, palestra, finanziamenti e progetti il Sindaco Dell'Onti risponde all'opposizione stiamo parlando di polemica Sassonia accende la sua estate invece torniamo a Fano dopo un duro inverno pronto il calendario degli eventi che strizza l'occhio ai turisti e sotto da Barchi la staffetta del Bianchello da Fratterosa arriva a Barchi sempre dal Corriere Adriatico la pagina di Fano scusate la pagina di Senigallia maltempo, allagamenti, alberi caduti diversi interventi dei Vigili del Fuoco tra Cesanella, Mandriola, San Silvestro, Sant'Angelo e Ostra poi a centro pagina invece approccio hard con una ragazzina propone sesso a pagamento poi si vendica con le maldicenze un anziano è finito a giudizio poi l'uomo che è svenuto tra le braccia del fratello Corinaldo è fuori pericolo adesso andiamo sul messaggero la pagina principale rifiuti in centro storico a Pesaro si cambia il sindaco Ricci nel fine settimana mi incontrerò con Marche Multiservizi per una soluzione centro pagina anche qui la notizia dell'Isippo odissea giudiziaria infinita poi ancora dal quotidiano romano tra Marcolini e Comi siamo alla politica regionale in attesa di sapere chi saranno i sei assessori scelti dal presidente Luca Cerisciole ebbene dicevo tra Marcolini e Comi ecco Sciapichetti nuova giunta il segretario mette il veto sui terzi mandati i sostenitori dell'ex assessore pronti ad andare alla conta Ceriscioli che chiedeva una decisione unitaria in quota macerata vira sul consigliere così gli esterni saranno solo due e poi sotto Loretta Bravi e il fanese Rapa gli ultimi due tasselli quasi a posto il governatore avrebbe scelto lei in quota Udc l'altro ha il via libera dei socialisti quindi l'altro ovviamente è il fanese Rapa che potrebbe potrebbe ma forse stamattina a leggere il titolo sembrerebbe di no ma insomma potrebbe anche fare l'assessore 10.000 ginnaste a Pesaro ma anche la Romagna fa festa dalle oltre 40.000 presenze attese due terzi troveranno alloggio negli hotel di Cattolica sarebbe curioso sapere se a Fano avrà portato qualche beneficio porterà qualche beneficio questa iniziativa Pesaro ginnastica in festa capire se anche gli alberghi di Fano sono pieni oppure no addio all'ingegnere Leonardo Cioppi si è spento l'ingegnere Leonardo Cioppi gli appartenenti al Lions Club di Pesaro lo ricordano con commozione e con cordoglio ebbene andiamo sull'altra pagina del messaggero anche qui rifiuti in centro presto Matteo Ricci annuncia una soluzione non toccheremo il porta a porta individueremo solo un altro modo per liberare le vie dei sacchetti nelle ore serali è un problema che comunque accomuna un po' tutte le città anche a Fano credo ci sia questo problema se non è stato cambiato qualcosa il PD qui è il nuovo primo partito Gostoli ha rimarcato il risultato del 40% sfiorato nel capoluogo Pesaro può diventare un modello il governatore Ceriscioli può cambiare davvero le marche Comio Marcolini prima bisogna trovare l'unità del partito chiudiamo con la pagina di Fano del Messaggero anche qui in apertura in evidenza la questione dell'Isippo per la statua contesa Odissea Giudiziaria Infinita poi la notizia della scomparsa a 95 anni di Marilu Cordero di Montezemolo e ancora sotto la notte rosa saldi estivi i negozianti premono perché possano iniziare il 3 luglio poi ancora politica dopo Minardi il partito democratico in mezzo al guado Rosetta Fulvi e Cristian Fanesi sono in corsa per la presidenza del Consiglio Comunale e infine la notizia del passaggio del maxi yacht ieri a Fano in tilt il traffico anche sulla Cesanese da dove è partito è tutto grazie per aver seguito Occhio ai giornali ci troviamo domani mattina come sempre alle 7.30 questa sera invece il telegiornale Occhio alla notizia alle 20.30 grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona giornata Grazie per aver guardato